benvenuti o bentornati nel mio canale un video breve anzi brevissimo ultimamente stanno passando al setaccio controllando frame su frame ogni opera per scongiurare contenuti giudicati non idonei stereotipi o messaggi dannosi e razzisti e in questo clima da revisionismo storico la nuova morale di hollywood ha deciso di contestare tre film per bambini film che hanno segnato con un dolce ricordo l'infanzia di tutti i bimbi del mondo bene da oggi diramato da più di una testata giornalistica quei film non faranno più parte dei ricordi dei più piccoli ebbene il film sono dumbo peter pan e niente po po di meno che i dolci arresto gatti film che sono stati cancellati dalla sezione disney più quella dedicata ai bambini restano comunque visibili agli adulti con la dovuta nota introduttiva che dichiara testualmente ma qual è il motivo che ha portato a questa scelta per dumbo motivo della contestazione e chiusura i versi di una canzone che suonerebbero irrispettosi verso gli schiavi afroamericani che lavoravano nelle piantagioni per peter pan invece il motivo risiederebbe nella dolce nativa americana giglio tigrato perché veniva definita pelli rosse e questo sarebbe un titolo offensivo infine per gli aristogatti il colpevole è il gatto si amese dai denti spioventi gli occhi a mandorla e le bacchette con questa caricatura di shang on avrebbero offeso il popolo asiatico giusto o non giusto voi come la pensate al prossimo video